... sul divano, dai svegliati che è arrivato il notario, dobbiamo parlare del testamento, approfittiamo per acicologi. Ecco bene, come stai qui? Ciao, buongiorno, mi hai detto bene, perfetto, ho sentito tutto l'ottimo, io avevo grande fiducia con cui ho già conosciuto i vostri genitori e sapevo che mi avevo prima tutta una cultura sia cristiana che laica, anche tutta una cristiana, perfetto, ti saluto, 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 allora, io sono benvenuti, ci saluto, ti saluto, ti saluto, ti saluto, ti saluto, ti saluto, no, non bisogna dire perché dovessi parlare, lei non c'è una casa della mamma, ma io non dav로yen la такia, no, non possiamo cerca di parlare, altrimenti è nico o se sveglia, noi non possiamo più aprire... Nooo, non... va le volete parlare, ho detto parlare, è spagnolo... lord è gammian? che non è importante in spagnolo? allora andate con mia mamma e stagione vada a vedere se il chiquitore vuole andare, andare, scappate, scappate ose ci sono sempre no? e non le vado dare, non le vado di fate ma non le vado a te ma non le vado dite ma non le vado a parte troppo ci comportavano e capisci che l'avete trovato così incontrabile, però lei deve agire, c'è una moglie, c'è pure il giudice, direbbe è loro che lo deve fare allora. Ezzo! Allora, sentite, noi qui però tutta la mia stessa, che erano tre minuti, stiamo a fare argomenti. Ezzo! A che è un uomo che si sveglia Cico? Allora, non ti aveva spiegato tutto, ha detto solo Ezzo. E c'è, e quello si investiamo anche per parlare di Spai, ma del problema ci sta. Adesso glielo spiego io in italiano. Allora, notario, noi gli abbiamo chiamato per nostro fratello Cico, che non sta bene. E poi, quando vedete la bocca che si muove, dovete stare fermo con questa qua, altra bocca, perché se si muovono due bocca insieme non si capisce. Allora, adesso, nell'Italia, quando muoviamo la bocca significa che parliamo, a meno che non siamo soltanto a pochi suoni pesci. Però quando fai così che si sente il suono, e sta parlando, e tu devi stare con la bocca alzetta così, non devi fare così. Tutte e due così, no. No, così, così, sì, così, così, sì, così, no. Chiaro? Che sono tutte sti posti? Sto cercando di farmi capire. Notario, con la cosa grave noi ci siamo accorti che non possiamo più rispettare le volontà di nostra madre. Cicco, non puoi rimanere in questa casa. Accanto a lui ci vogliono specialisti, medici, infermieri. Ma capito? Non c'è bisogno di un po' che è quasi un po' nell'epoca della sanità. O non lo so, di medici e di baramento. No, no, va a baramento, di medici, è l'originale, va a barometto. Nota, noi abbiamo scoperto una cosa molto grave. Tanto, tanto grave. Tanto, tanto, ma, 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 tanto. Cosa? Eh, noi abbiamo scoperto che Cicco ha ucciso nostra madre. E per non farla soffrire.